Siamo giunti al ventunesimo campeggio, campeggio nato per creare una sinergia all'interno dei vigili allievi in modo di conoscersi, di creare gruppo, amicizie nuove, rispetto reciproco, responsabilità e rispetto delle regole. Questo per il nostro sistema è fondamentale. Mi auguro che questi quattro giorni siano all'insegna di una bella armonia, sicuramente il posto è stupendo, devo dire un posto fantastico, le giornate organizzate dal distretto della Vallagarina sono piene, quindi mi auguro e sicuramente così sarà che il campeggio sia un successo.